salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui di nuovo con forza motorsport 5 allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta vediamo un attimo se ci fa andare nel menu della carriera così diamo un'occhiata insieme per la prima volta perché anch'io ancora non vedo praticamente niente ho aspettato che finisse l'installazione del gioco nuovo stemme titoli sbloccati ok un messaggio da tour 10 perfetto allora vediamo un attimo siamo qui carriera gara 5 di 5 quindi quello era il primo evento che avevamo fatto rivali cimentati nelle classifiche per superare i tuoi amici gioco libero perfetto elabora e potenzia profili profilo di forza vediamo un attimo profilo di forza cosa mi mette cambio profilo diamo un'occhiata personalizzare la tua scheda utente qui può modificare la tua scheda utente selezionando tutti gli stemmi e titoli sbloccati ok allora cambia stemma che stemma abbiamo al momento a questi sono quelli sbloccati perfetto mi dice anche batti un amico in un evento rivale non è vero non l'ho fatto potremmo avere cinque volte in un evento rivale ma se ancora non ho fatto mai gli eventi rivali ottieni i primi guadagni del tuo drive a tartare ok quindi il drive a terra fatto le sue cose altri cose ancora non ci ha sbloccato obiettivi vediamo qui raggiungi livello pilota 1 vabbè questi abbiamo dato un'occhiata cambia stemma cambia titolo che titolo ci abbiamo ben arrivato pronto all'azione nemica amico amici fino alla fine sempre in gara vabbè questi magari lo faremo dopo che abbiamo sbloccato qualcosa perché al momento non non abbiamo moltissimo il mio drive a tartare cosa ha fatto gare totali 4 ok cura perfette 6 quindi lui continua a gareggiare in base al nostro non è vero aspetta la lista a sinistra mostra i dati ottenuti mentre a addestravi il tuo drive a tar ok quindi queste sono le gare che ho fatto io non lui vabbè spero che si possa un attimo allenare anche base alle altre cose che andremo a vedere altre gare che andremo a fare più avanti questi cose movimenti di testa riconoscimenti no perché ho disattivato il kinect controller ok quelli erano i comandi h o d va bene allora andiamo indietro e cos'altro possiamo vedere maker marketplace galleria forza vernice auto centro messaggi vediamo un po messaggi il centro messaggi ti aggiorna su quello che accade nel mondo di forza motorsport segui messaggi relativi alle livree che ha inviato e alle vittorie del tuo drive a tar ok poi aumentiamo un attimo se è possibile la voce della signorina perché non si sente una sega allora dlc niente messaggio da tartare non bene vediamo un attimo cosa ci dice benvenuti in premi di forza disputando partita forza ottieni dei punti in premi di forza più punti accumulerai più alto è il tuo livello e più sono ricchi i premi che otterrai ogni mese puoi riscattare i tuoi premi in forza fra questi vi sono vetture credito di gioco oggettoni altro ancora quest'altro ok questo è un evento qualificazioni per il campionato forza motorsport 5 sono aperte il campionato si darà a metà gennaio a giugno 2014 da metà gennaio a giugno eh vabbè ormai siamo arrivati a dare che cos'è crediti giornalieri il nostro drive a tar completato tre gare ottenuto domenica dalla tua ultima sessione gioca tutti i giorni per riscuotere le vincite del tuo drive a tar ok rivali non ho fatto niente regali attenzione vediamo che auto ci hanno regalato un regalo velociter turbo scarica come funge vediamo un attimo non so se me l'abbia date perché comunque nel profilo ci sono i salvataggi cioè non i salvataggi però il mio account ci ho giocato sia con forza motorsport 2 forza motorsport 3 forza motorsport 4 e forza horizon quindi non so se qualcosa sia dato anche dal fatto che io abbia giocato anche agli altri comunque poi andremo a vedere queste auto magari taglio un pochino se ci mette troppo Fiesta ST vabbè le vediamo direttamente dopo questa parte magari taglierò che ci vuole un poco presumo perfetto allora auto scaricate centro messaggi non so perché adesso ce ne siano più di primi che cosa si ho capito non mostrare più signorina basta va bene ok non mostrare più ah nuovo dlc disponibile anche no dlc disponibile non ci interessa vediamo delle notizie erano quelle di prima ricompensa drive a tar l'ho già letto rivali consiglio rivali ah mi ha dato tutte le cose vabbè non adesso la sfida arrivare poi magari andiamo a fare nei prossimi video ma un'altra cosa posso andare a vedere ad esempio le mie auto dove potrei trovarle vabbè andiamo in carriera facciamoci questa gara e poi vi faccio vedere le auto che ci ha regalato allora seleziona campionato vettura le mie auto bene diamo un'occhiata ok la brz è quella che avevo acquistato io precedentemente la prima auto acquistata ci ha regalato questa audi perfetto audi rs7 sportback di classe b questa è di classe c dove siamo adesso nel campionato poi abbiamo la camaro zl1 o twix così sempre classe b classe a la f12 berlinetta bellissima questa poi la andremo ad utilizzare poi di classe d abbiamo una fiesta st e beloster turbo una hyundai sempre di classe d e poi classe s addirittura una golf r va bene abbiamo queste qui poi andremo a vedere anche acquistato potenze adesso in questo video ci facciamo un'altra gara continuiamo il campionato la carriera dovremmo fare come vedete gare rimaste una perfetto e magari più avanti nei prossimi video andiamo a vedere un po' anche perfetto dicevo nei prossimi video magari andiamo a spipolare anche un po' nel nel garage se vogliamo acquistare qualche auto ne modifichiamo altre la berlinetta la utilizzeremo perché mi piace diciamo portare avanti come avete visto c'è la possibilità di creare un'affinità maggiore con una casa la produttrice io nell'altro forza l'avevo fatto con la ferrari e quindi la berlinetta ci può tornare utile perfetto andiamo avanti e facciamo una cosa ah ok perfetto quindi questo è contro gli altri facciamo una cosa aiuti di guida visto che abbiamo visto un attimo i comandi io andrei a mettere cambio con manuale con frizione attenzione cerchiamo di creare del panico per il resto lasciamo tutto così cosa altro volevo cambiare? ah l'audio mi sono dimenticato vabbè dai la prossima volta andiamo a vedere difficoltà per il momento lascio normale ragazzi perché adesso abbiamo fatto un attimo il test facciamo il perché riavvio è vero la difficoltà l'ho lasciato uguale ah perché è come se ne avessi vabbè andiamo aiuti alla guida me l'hai salvata sta cosa manuale con frizione perfetto vediamo adesso come va con il cambio manuale con frizione poi nel caso alla prossima cambiamo anche ecco adesso mi se mi ricordo qual è il tasto vediamo ah la prima la mette in automatico lui che cos'è? attenzione perché adesso devo anche controllare un po' sfrizione è normale che sfrizioni perché comunque con il pad oppala non è che possiamo regolare più di tanto e non mi tamponate che cos'è? cerchiamo di creare del panico oppela insinuo vediamo se riusciamo a fare una buona gara attenzione panico staccatona staccatona sta ceppa devo ancora un attimo affinare le staccate effettivamente devo farci un po' la mano oltre che devo alzare anche un pochino il volume perché adesso con il cambio manuale serve sentire per bene uh guarda questo ma che cazzo per bene il cambio questi inchiodano così attenzione vedo una sega attenzione all'esterno oppela oh ma mia ci proviamo con sportiveggianza come ho detto le sfrizionate adesso ci saranno appalate perché non la riconfrizione è normale uh pena che sia un po' così con il pad attenzione devo fare anche un po' di pratica con la pista e poi nel caso aumenteremo anche la difficoltà dei drive attorno intanto alzo un po' il volume e andiamo a bomba credo che non so se ci facciamo comunque inchioda abbastanza abusivamente attenzione rischio va così con cattiveria si la difficoltà la possiamo aumentare chiamo di se riusciamo a fare anche un giro relativamente pulito non sarebbe male attenzione merda ok si l'abbiamo sbagliato ho sbagliato un attimo la cambiata eh non è facile cliccare due tasti contemporaneamente per frizione cambio porca troia ok ci siamo giocati il giro buono come vedete lì a fianco al tempo mette il triangolino che ci va a dire che il giro non è stato pulito vabbè ci riproveremo un'altra volta dobbiamo fare ancora la pratica perché appena iniziato quindi devo un attimo imparare a gestire i veicoli e anche iniziare a conoscere attenzione è andare per frasche momo mio si col cambio c'è una distrazione in più con il cambio manuale però una volta che ci si fa la mano si riesce cioè ci si diverte un po' di più questo ci proviamo ci proviamo più aiuti riusciamo a disattivare meglio è poi è stato un po' un giro di merda in realtà ma va bene così andremo nel prossimo evento se non so se ne facciamo vabbè dai ne posso fare anche un altro piano panico aia ok ci siamo giocati tutto il buon fatto nell'ultima curva bene bene no allora ne dobbiamo fare assolutamente un'altra assolutamente si si un primo posto ma non ci piace non ci piace abbiamo fatto una gara un po' sporca un po' un po' così facciamocene un'altra sì dai dobbiamo cercare di fare un po' meglio di come è andata questa ok vabbè almeno ci da un po' più di esperienza con il 40% visto che gli aiuti alla guida poi li abbiamo disattivati l'auto certo non sta benissimo se vogliamo però i danni sono ancora un po' meno ok livello pilota 2 è stato premiato grazie 35.000 accrediti ottimo dai che dite ce ne facciamo un'altra no ma al momento anche no io vorrei continuare in generale quindi ci ha fatto vedere anche un po' la modalità rivali che funziona come funzionava negli scorsi capitoli soprattutto se non sbaglio forza motosport 4 il 3 non l'aveva ancora la modalità rivali l'hanno inserita dal 4 cioè ci sono delle piste con degli eventi dove corri con i ragazzi diciamo che sono nella tua lista amici o con tutte le altre persone che giocano in multi seleziona campionato oppure eventi bonus eventi bonus in cosa consistono ah quelli appunto singoli cosa c'è qui grazie a circuito piazza dei tre primi per ottenere l'oro e il massimo dei credit ci proviamo queste sono in teoria quelle che già abbiamo fatto quelle con è il quadratino che abbiamo lì va bene allora va bene ragazzi allora facciamo una cosa ci salutiamo qui con questo video farò una cosa cercherò di fare video brevi adesso ci siamo un po' persi in chiacchiere così però dovevamo vedere anche un po' queste modalità e cercherò di postare video più spesso possibile magari anche oltre ai classici video che posto quotidianamente eventualmente forza arriva in orari o in orari non dico particolare però prima della classica uscita delle 14 o anche dopo o anche alle 14 non lo so comunque cercherò di buttarcelo in più le gare di forza perché se riesco a farle brevi riesco magari a postarne di frequente comunque noi ci vediamo allora con il prossimo video di forza motosport 5 con le prossime gare inizieremo a spaccare un po' di culi va bene ci vediamo allora con il prossimo video mi raccomando seguitevi anche sul secondo canale e sulla pagina facebook se riesco addirittura ve ne posto un altro oggi se riesco a registrarlo per tempo ci vediamo comunque con il prossimo appuntamento un saluto a tutti da quel taleale ciao a tutti